La nota diffusa dal segretario regionale del PD, nonché ex presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, lascia poco spazio alle interpretazioni. È evidente, si legge, che occorre una riflessione profonda, che c'è bisogno di rimettere ordine all'interno del partito e ripristinare il rispetto delle regole, per cui chi non le condivide può accomodarsi altrove. All'indomani dell'elezione a sorpresa del presidente Diego Di Buonaventura, ci si sofferma a capire chi ha tradito chi. Non solo nei diversi comuni del territorio, ma anche al comune di Teramo, dove i conti non tornano. E a confermarlo chiaramente è proprio Di Buonaventura, ospite della nostra trasmissione prima di tutto. Ho cercato di far trasparire un progetto al Consiglio Comunale di Teramo, dove ho potuto. C'era anche un'apertura. E vedersi, sentirsi richiamato, vorrei ma non posso, perché, perché? Gli ho detto, guarda, c'è la libertà di voto, no? Mi fermo, se non vuoi, qui rischiamo anche di andare sul penale. Parte del Consiglio Comunale ha subito. Io qui saluto l'amico Gian Guido D'Alberto, che con lui abbiamo fatto esperienze tantissimi anni fa, che ci ha riportato. E che credo, ecco, non ho, in questo momento qui, sono sicuro che riuscirà a non cadere più in trappole assurde, in trappole che dico che non pagano, perché infatti abbiamo vinto, perché noi ci siamo comportati diversamente. A me, per determinare la vittoria, hanno votato uomini e donne non di aria di centro-destra. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, tuttavia respinge le accuse. La responsabilità della sconfitta di Giuseppe D'Alonso non è da debitare al Comune di Teramo. La verità è nei numeri, insomma, ci sono delle fasce, diciamo così, elettorali, relative alla cosiddetta fascia rossa dei comuni medio-grandi, dove si è registrata, si è consumata la vittoria del presidente di Buonaventura e la sconfitta di D'Alonso. Quindi la riflessione politica sta tutta lì, non certo a Teramo. Comunque si è andata, Diego di Buonaventura è stato eletto presidente della provincia di Teramo e con grande entusiasmo si appresta a lavorare con l'intento di rilanciare il territorio. Primo passo da compiere, una visita all'ufficio speciale per la ricostruzione, per cominciare a mettere i puntini sulle I, per dare finalmente una svolta alla situazione di Stallo, che regna sovrana ormai da due anni. Io adesso che incontrerò, cercherò con molta calma di incontrare l'ufficio di costruzione, dico non mi interessa, se mi dite che determinate gli atti in X giorni va bene, se no ci mettiamo mano, questo è il messaggio che io do. Poi lo facciamo proprio in diretta, proprio online, se mi ascoltano, quello degli uffici di costruzione, io non ce l'ho con nessuno, capitemi, io non è che sarò lì a fare epurazioni perché non c'ho tempo di fare la politica e non mi interessa. Ho solamente una missione con chi mi è sostenuto, quello di determinare i tempi certi. E io ve lo chiedo, aiutatemi voi, perché ecco io non sono stato nell'ufficio di costruzione, voi in questi due anni penso che almeno avete capito dove sono, perché se no abbiamo capito neanche quello, in questi due anni dove sono le criticità. Allora se mi dite quale può essere una soluzione, io la prendo, perché non voglio perdere tempo, altri due anni per capire. Uno presenta la pratica, fra 31, 60, oppure la gente dice anche 90 giorni, devo sapere di che morte morire.